Il capo caccia ha indicato a ciascuno il suo posto. Signori, in bocca al cinghiale. Si stende intorno alle prede una rete di agguati. I cani mettono nelle macchie e tra le erbe il fremito della loro corsa. Per il cinghiale stamane è un inquieto risveglio. Si inizia la gara tra l'istinto di conservazione e l'istinto di preda. Tra l'astuzia e il fiuto, il cinghiale avverte che sarebbe vano a contrattaccare. Ma ci sono altri cani, quelli del fuggito. La vittima ruzzola come un grande attore alla fine del dramma. L'allarme ha stanato anche i daini. Questo è un paradiso di selvaggina, gremito di animali come un arazzo. Implacabili panoramiche delle canne d'acciaio. Questo è un anziano. In famiglia passava per una pelle dura. Spenzolano i trofei ai bastoni dei portatori. Il terreno è disseminato di prede. E se qualcuno metterà in dubbio i mirifici racconti dei cacciatori, stavolta possiamo testimoniare che rispondano a verità.